Oggi vi mostriamo la via Borremans di Caltanissetta. All'altezza del numero civico 94 sono stati realizzati degli scavi sul manto stradale, probabilmente per passare la fibra, e nonostante siano passati diversi mesi dalla realizzazione dei lavori, l'asfalto non è mai stato ripristinato. I tombini per la raccolta delle acque sono totalmente intassati. Gli alberi fuoriescono sulla carreggiata, coprono la segnaletica verticale e ostruiscono la visuale agli automobilisti. Il sopralluogo è stato effettuato dal consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello, invitato da alcuni residenti della zona. Oscar Aiello ha presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale. Considerato che il mancato ripristino del manto stradale, ad opera di chi ha effettuato i lavori, ha reso la via Borremans più pericolosa, soprattutto dopo ogni pioggia. Ritenuto opportuno vigilare sui lavori effettuati lungo le strade di Caltanissetta, affinché chi di dovere provveda al ripristino dei corpi stradali e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, Oscar Aiello interroga l'amministrazione comunale per sapere chi ha effettuato i lavori sul manto stradale di via Borremans e perché l'asfalto non è stato ancora ripristinato. Quali sono gli oneri a carico di chi ha effetto i lavori di manomissione del suolo pubblico comunale per la realizzazione di impianti di servizi a rete nel sottosuolo e a chi compete verificare cosa ha intenzione di fare per la pulizia dei tombini intasati e l'eliminazione dei rami che invadendo la carreggiata ostruiscono la visuale. Oggi siamo venuti in via Borremans e all'altezza del numero civico 94 dove i residenti della zona ci segnalano che tempo fa, mi si fa, sono stati eseguiti dei lavori sul manto stradale, avrebbero passato probabilmente la fibra, ad ogni modo l'asfalto è stato rovinato, la ditta che ha l'onere di ripristinare i luoghi ha lasciato tutto così a metà quando piove la strada diventa pericolosa, in effetti ci sono delle buche non è bello sia visivamente ma anche dal punto di vista della sicurezza stradale il comune dovrebbe vigilare e invece è rimasto tutto così abbandonato come gran parte della città. L'impegno su richiesta dei cittadini di presentare un'interrogazione per capire quando verranno ripristinati, quando verrà risistemato l'asfalto per capire bene chi del comune ha l'obbligo di dovere di vigilare e invece non l'ha fatto. Un ulteriore problema che mi sono segnalato dai residenti sono gli alberi che fuoriescono sulla carreggiata e tra l'altro striscono anche i cartelli stradali. Durante il sopralluogo mi è stato tra l'altro segnalato un altro problema che abbiamo appena visto ossia la presenza di tombini completamente intasati quindi non vengono puliti e ciò comporta un ulteriore pericolo per questo tratto di strada di via Bormans. Grazie.